Domestica riesce anche a servire Nolano in avanti, bello il tocco, attenzione perché si va quasi alla conclusione, arriva adesso il Mancino, il gol del 2-0 del Cotton Club al 14esimo minuto, ancora un diagonale, ancora di sinistra, ancora da quella fascia, il raddoppio del Cotton Club dopo 14 minuti. Della povero Mencarini, il pallone nel frattempo è lungo, il tocco bello di Monteforte per Blandino, Blandino prova anche ad aprire il piattone, poi Monteforte a Domestica va con il destro dalla fuori, che cosa ha provato Monteforte? Nuovo in avanti il Cotton Club, ancora dalle parti di Tinazzi, poi di nuovo Monteforte, il Mancino, il pallone passa, ancora toccato e nonostante ciò il 3-0 del Cotton Club, minuto 18, ancora la doppietta di Matteo Monteforte, partina che forse già si chiude. Prende tempo Nolano, poi sventaglia in irrazioni di Monteforte, bello lo stop con il petto, attenzione a Monteforte che va per la tripletta e la segna anche questa, di nuovo lui, di nuovo Matteo Monteforte, 4-0, 19 minuti nello spazio di 120 secondi, la partita si chiude sempre di più per il Cotton Club. Le Rose riesce anche a passare, Le Rose morì in pallo, favorisce Monteforte, attenzione Monteforte ci pensa, serve invece per il compagno che va con il destro, il 5-0 del Cotton Club. C'è spazio anche per Ludovico, Le Rose su assist ovviamente di Matteo Monteforte, il 5-0 al nono minuto. Le Rose, Monteforte si è inserito Le Rose, ecco lì il pallone per il numero 32 che la mette dentro, il 7-0 arriva adesso al 24esimo ed è la doppietta di Ludovico, Le Rose ancora su assist di Monteforte.